Ma che diavolo succede? La terza guerra mondiale? Ehi, non ti pare che i tuoi amici stiano un po' esattivanti? Kevin, la sai usare? Non perderlo mai di vita e tieni la chiara a costo della vita. Se si avvicina qualcuno uccidilo. Hai capito, Kevin? Ehi, c'è l'apocalisse là fuori! Hai pronto, Guido? Non ancora, comunque è al sicuro. Ho pensato che aveste bisogno di un tocco femminile. La classe non è acqua.